Miglior pianista italiano, vincitore del premio Venezia, grazie al quale si potrà esibire in un tour di oltre 20 concerti per le più importanti istituzioni musicali italiane ed europee. Giacomo Menegardi, 23enne, è stato il protagonista del terzo concerto del Festival Musicale Internazionale alla Casa Museo Ivan Bruschi. È stato veramente un mio sogno sempre il fatto di poter andare magari a un concorso internazionale ed esibirmi in un contesto importantissimo come può essere ad esempio il teatro alla Fenice di Venezia dove ho partecipato al premio Venezia e suonare alla Sala Grande le ultime due prove del concorso è stato veramente un'emozione incredibile. Ad Arezzo Menegardi ha portato un programma sapientemente bilanciato tra classicismo dell'Ottocento e simbolismo del Novecento. Musiche di Mendelssohn, ho eseguito la Fantasia Opera 28 detta anche suonata scozzese, ispirata appunto al paesaggio scozzese del nord e poi le stampe di Debussy divisi in tre brani e poi ho chiuso con il grande affresco musicale di Modest Mussorski i quadri di un'esposizione. Applausi